Buongiorno a tutti, in questo nuovo tutorial vi mostro come realizzare questo vestitino a maniche lunghe con le maniche un po' larghe sul porso, un po' come abbiamo fatto per la maglia Pavone, quella blu sfumato. Per realizzare però il vestitino non ho utilizzato la nana, bensì il cotone, ossia ho utilizzato della ranagatto, la linea Ipanema, che è 94% cotone e 6% nylon e ho utilizzato 400 grammi di questo filato, lavorandolo con l'uncento del numero 3. In descrizione naturalmente vi metterò il link della merceria da cui potete acquistare online il mio stesso filato anche in altre tonalità. Mi avvicino un po' perché vorrei farvi vedere, non so se si riesce a vedere, che questo filato sbrilluccica, quindi è veramente perfetto per poter indossare in determinate occasioni e ho optato per il cotone proprio per questo, molti locali quando fanno i matrimoni, quando si fanno in cerimonie sono molto caldi, quindi fare un vestito di lana per queste occasioni poi si soffre durante la festa, quindi ho deciso di fare qualcosa in cotone che comunque tenesse caldo ma con un punto forato, in modo tale da non subire proprio il caldo che si ha dentro i locali ed è un vestito che può essere sfruttato anche in primavera o in autunno. Per realizzare, come vi ho detto il vestito, io ho utilizzato questi 400 grammi di lana, ogni gomitole da 50 grammi e misura 170 metri e ho lavorato partendo dal basso, lavorando in tondo, ho lavorato in tondo fino all'altezza degli scatti, poi sono andata a dividere la parte avanti con la parte dietro e poi sono passate a lavorare lo stesso punto in giro di avanti e indietro. Quando si lavora in tondo il punto viene realizzato ripetendo due giri, quando si lavora in giro di avanti e indietro invece il punto per essere realizzato bisogna ripetere quattro giri, questo perché si modificano l'inizio e la fine e quindi si ha bisogno di questi quattro giri per far venire proprio bene il punto. Realizzate quindi la parte avanti e la parte dietro, sono andate a cucire l'altezza delle spalle, 5 centimetri, quindi pochissimo perché volevo che il collo si tenesse in largo e che il vestito scendesse bene sulle spalle. Poi a questo punto sono andata a realizzare le maniche, potete vedere quindi che queste maniche scendono un po' all'altezza dei polsi ma io non ho fatto alcun aumento, è proprio il cotone e il tipo di punto che ho utilizzato che permette questo perché tende ad allargarsi se non si fa il secondo giro, quindi io alla fine non ho fatto il secondo giro, quindi non sono andata a stringere la lavorazione e questo ha permesso di ottenere questo effetto delle maniche. In più in là, il prossimo video che riguarderà un vestito, sto pensando di realizzare un vestito che vada bene anche chi è più formosa, questo già va bene perché non è affillato, lo sembra ma vi posso assicurare che non lo è, mi cade proprio morbido addosso, quindi anche se dovete fare una taglia più grande vi posso assicurare che non vi stringe se andate a fare i giusti aumenti, però farò comunque un prossimo video, un prossimo vestito in cui farò qualcosa stretto sul seno e che poi va ad allargarsi sotto, devo ancora scegliere bene il tipo di modello, devo scegliere se farlo a maniche a tre quarti o a mezze maniche e naturalmente devo anche scegliere il punto, però vi assicuro che farò uscire almeno penso verso marzo aprile un altro vestito adatto per questo periodo. detto ciò, spero che questo vestito vi piaccia, che desiderate realizzarlo e se è così mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook o sul mio blog www.incentanomanelsa.it ci vediamo al prossimo videotutorial per realizzare il nostro vestito io utilizzerò il cotone della lana gatti panema che è un cotone molto spesso e che quindi va benissimo per usarlo anche in inverno naturalmente si tratta di un vestito è un po' più elegante quindi non ho badato al fatto che sia molto caldo ma più che altro all'effetto che fa e infatti ho scelto questo cotone proprio perché se si non so se si vede delle cana telecamera sbrilluccica e ho optato per il colore beige chiaro perché comunque è un colore che va sempre di moda allora io ho montato 180 catenelle lavorerò con l'uncinetto del numero 3 la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10 quindi mi raccomando se dovete fare una taglia m o una taglia l ricordate di aumentare sempre di 10 catenelle a questo punto possiamo iniziare la nostra lavorazione e andiamo a fare ci alziamo con una catenella rientriamo dentro la stessa maglia di base e facciamo una maglia bassa una catenella prendo due volte il filo sull'uncinetto salto 4 catenelle di base 1 2 3 4 entro nella quinta e vado a fare una maglia alta doppia 2 catenelle devo fare altre 4 mai altri doppi separate da 2 catenelle nella stessa maglia di base quindi però in totale quindi 5 maglie alte doppie quindi una già l'ho fatta e vado a fare il resto seconda maglia alta doppia 2 catenelle terza maglia alta doppia 2 catenelle quarta maglia alta doppia e a questo punto vado a fare una catenella salto 4 catenelle di base 1 2 3 4 entro nella quinta e vado a fare il nuovo la mia maglia bassa Devo fare questo per tutto il mio primo giro quindi ripetiamo insieme vado a fare una catenella prendo due volte il filo sull'uncinetto salto 4 catenelle di base 1 2 3 4 entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta doppia 2 catenelle prendo il filo due volte rientro seconda maglia alta doppia 2 catenelle prendo il filo terza maglia alta doppia 2 catenelle prendo il filo quarta maglia alta doppia Prendo due catenelle prendo il filo quinta maglia alta doppia Una catenella salto 4 catenelle di base 1 2 3 qua 1 2 3 4 entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa Bene devo fare questo per tutto il mio primo giro Termino il mio primo giro dopo aver fatto una ma l'ultima delle cinque maglie alte doppie vado a fare una catenella vado dove ho la prima maglia bassa del giro e per il primo giro vado a fare una maglia bassissima Ho terminato così il mio primo giro Secondo giro con delle maglie bassissime mi porto tra la seconda e la terza maglia alta doppia Arrivati qui vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta 3 catenelle di separazione una due tre vado dove ho la quinta la terza delle qua cinque maglie alte doppie e vado a fare una maglia alta una maglia bassa scusatemi 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado tra la quarta e la quinta maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle e ricomincio da capo quindi prendo il filo vado tra la prima e la seconda maglia alte Doppio vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la terza delle cinque maglie alte doppie vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado tra la quarta e la quinta maglia alta doppie faccio una maglia alta 2 catenelle e ricomincio da capo facciamo ultimo alti insieme vado dalla prima e la seconda maglia alta doppio e faccio una maglia bassa 2 cat e 3 catenelle vado dove ho la terza delle cinque maglie alte doppie e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle prendo il filo vado tra la quarta e la quinta maglia alta e faccio una maglia alta 2 catenelle ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro Per terminare il mio secondo giro dopo aver fatto la maglia altri 2 catenelle sono entrata nella terza catenelle iniziale che voleva la mia prima maglia alta e ho chiuso con una maglia bassissima allora questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere naturalmente adesso vi faccio vedere come si fa il primo perché abbiamo una base diversa però il primo e il secondo giro ripeto sono i giri che andremo sempre a ripetere e vedrete che man mano si delinea di più il motivo che ne viene fuori perché adesso non si nota bene io naturalmente lavorerò fino al poi all'altezza degli scalfi dove dividerò la parte avanti con la parte dietro comunque vi faccio rivedere come si fa il primo giro andiamo con delle maglie bassissime fino a dove ho la maglia bassa Arrivati e dalla maglia bassa mi alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare una maglia bassa una catenella prendo due volte filo sull'uncinetto vado tra le due catenelle che ho tra le due maglie alte e vado di nuovo a fare le mie cinque maglie alte doppie separate da una catenelle da due catenelle quindi due Seconda maglia alta doppia due Terza maglia alta doppia 2 Quarta maglia alta doppia 2 Quinta maglia alta doppia Una catenella di separazione vado dove ho la maglia bassa e faccio una maglia bassa Catenella di separazione ricomincio da capo quindi questo è quello che dovrà fare per tutto il mio Per tutti i miei giri e per tutta la lunghezza della mia del mio vestito il primo e il secondo giro Allora io ho lavorato il giro in i due giri fino ad arrivare ad un'altezza totale di 70 centimetri e 70 centimetri sono in giri che mi vanno bene sono la lunghezza che mi va bene per fare gli scappi alle braccia per le per le maniche naturalmente se voi volete il vestito più lungo allora vi consiglio di Continuare a lavorare fino alla lunghezza che desiderate una volta fatto ciò io mi sono contata. I miei lavori miei motivi nel verso In orizzontale contandoli così 1 2 3 4 5 6 7 8 no io in totale ne ho 19 e quindi ho dovuto dividere la parte dietro con la parte avanti e sono andata devi metterne 9 dietro 9 sul davanti Mi raccomando se ne avete il numero di spai quello in più va sempre sul davanti Detto ciò quando sono messi il mio marcatore e sono andata a mettere io qui stavo lavorando quindi dove ho la fine del giro sono andata a mettere il marcatore prima del Dove finisco il giro quindi dove ho le due catenelle che mi separano le due maglie alte poi sono andata a contare 9 motivi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e di nuovo sono andata a mettere il marcatore dove ho i due Le due catenelle che mi dita nei due maglie alte subito dopo il mio nono motivo Adesso posso andare a lavorare la parte avanti andando in giri di avanti e dietro quindi vi farò vedere Come si finisce si iniziano di nuovo i due giri perché è diverso da quando abbiamo invece lavoriamo in modo circolare Allora vado a lavorare in questa maniera Mi alzo e vado a fare delle maglie bassissime fino ad arrivare dove ho la mia maglia bassa a Questo punto mi alzo con una catenella rientro dentro vado a fare una maglia bassa Una catenella e lavoro normalmente vado a fare le mie cinque maglie alte doppie separate da due catenelle quindi il primo giro si lavora normalmente e lavorerò fino alla fine del giro Quindi adesso lavoro il mio primo giro quando sto per finire vi faccio vedere come si termina e come si inizia il secondo giro Quindi termino il primo giro facendo una maglia bassa all'interno della maglia bassa Sottostante quindi sono arrivata dove ho il mercatore adesso giro e adesso iniziano i cambiamenti cambiamenti che ci saranno sia nel secondo giro che fa perché mi serve fare il mio motivo sia nel primo giro successivo questo perché questo diciamo che ci è servito solo per iniziare quindi è un giro fatto uguale ma poi adesso avremo i nostri cambiamenti e iniziamo dovendo fare 3 catenelle 1 2 3 che cura la nostra prima maglia alta 2 catenelle di separazione prendo il filo entro tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta e adesso torna lavorare normalmente quindi 3 catenelle vado sopra la terza delle 3 ma delle 5 maglie alte doppie vado a fare una maglia bassa 3 catenelle vado tra l'ultima tra le due ultime maglie alte doppie faccia maglia alta 2 catenelle vado tra le prime due maglie alte doppie faccio una maglia alta quindi adesso io torno a lavorare normalmente vi faccio vedere come si termina il giro e come si inizia poi il primo giro del motivo Sto arrivando alla fine del mio secondo giro fatto le 3 catenelle vado a fare la mia ultima maglia alta all'interno degli ultrali tra le due maglie alte doppie del giro precedente e adesso da fare 2 catenelle prendo il filo e vado a fare la maglia alta sopra la maglia bassa del giro precedente Ho terminato così il secondo giro ricominciamo primo giro però come vi ho detto dovremmo andare a fare un cambiamento e si realizza in questa maniera entriamo dentro l'archetto di 2 catenelle facciamo una maglia bassissima e realizziamo 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia 2 catenelle di separazione prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta doppia 2 catenelle prendo il filo e vado a fare una terza maglia alta doppia una catenella vado dove la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa quindi invece di 5 stavolta io ho fatto solo 3 maglie alte doppie adesso invece torna normalmente quindi una catenella prendo due volte il filo vado nell'archetto 2 catenelle che mi separano e 2 maglie alte del giro precedente e vado a fare sempre le mie 3 mai le mie cinque maglie alte doppie separate da due catenelle e continuiamo così per tutto il primo giro vi farò vedere come si termina e naturalmente vi vi farò rivedere come l'inizia il secondo questo primo giro e il secondo che andremo a fare sono i giri che andremo sempre ripetere per tutta l'altezza che ci serve per realizzare il davanti del nostro amaglia del nostro vestito scusate dunque devo terminare quindi il primo giro del mio motivo e vi faccio vedere come quindi ho fatto la maglia bassa una catenella prendo due volte il filo vado nell'archetto e 2 catenelle vado a realizzare la mia prima maglia alta doppia 2 catenelle rientro dentro e vado a realizzare una seconda maglia alta doppia 2 catenelle prendo filo vado dove ho la terza catenella entro proprio dietro e vado a fare una maglia alta doppia questo è per rendere più lineare il motivo Adesso mi giro e ricomincio quindi a lavorare da capo mi alzo con una catenella vado dentro la prima maglia alta doppia vado a fare una maglia bassa 3 catenelle prendo il filo vado tra le ultime due maglie alte faccio una maglia alta 2 catenelle ricomincio a lavorare normalmente vado tra la prima e la seconda maglia alta doppia e faccio una maglia alta 3 catenelle vado dove ho la terza maglia alta doppie faccio una maglia bassa 3 catenelle e così via adesso riora finirò il mio secondo giro del motivo vi farò vedere come si termina poi si ricomincia andare a lavorare come abbiamo lavorato prima comunque terminiamo in questa maniera e poi vi farò rivedere come si lavora quindi io termino il secondo giro del motivo andando poi dopo aver fatto la maglia altre 3 catenelle nella quarta ma catenelle iniziale facendo una maglia bassa e adesso si ricomincia da capo avevo sbagliato quando vi ho detto che si devono ripetere i due giri realtà si devono ripetere questi quattro giri quindi il motivo adesso diciamo che viene fuori ripetendo quattro giri non più due mi ero lì mi ricordavo male pensavo che ne facevano due invece erano sono quattro quindi adesso ricomincio dal primo giro quindi mi giro con il lavoro e di nuovo ad affare una maglia una catenella per alzano i colori al lavoro una catena una maglia bassa Una catenelle ricomincia a lavorare normalmente quindi ripetiamo sono questi quattro giri che bisogna andare per realizzare il nostro motivo io alla fine vi dirò questi quattro giri quante volte l'ho ripetuta prima di smettere di lavorare sul davanti e passare a lavorare dietro facendo poi gli stessi giri quindi mi dispiace per prima ma sono quattro giri che vanno ripetuti dal primo fino a questo che aveva fatto per 4 e si ricomincia da capo Allora io ho ripetuto in motivi quattro giri per quattro volte quindi 1 2 3 4 una volta fatto questo ho fatto la stessa cosa anche dietro andandomi con il filo ad agganciare dovevo la maglia bassa dopo il marcatore e ho lavorato in giri avanti e indietro e la stessa i giri che ho lavorato sul davanti Bene adesso io andrò a cucire le spalle non tantissimo perché voglio che lo scollo sia largo quindi cucirò soltanto 5 cm d'acqua e di qua e poi andrò a fare le maniche Allora io ho cucito i miei 5 cm ai lati del vestito perché vi ripeto vi ripeto che voglio che lo scollo sia Largo nel senso che vado un po a fare la barca sopra le spalle adesso possa fare andare a fare le mie maniche vado sotto quindi vedete questa è la mia manica mi prendo e vado sotto dove ho l'archetto di 2 catenelle che non ho lavorato quando separato la parte dietro dalla parte avanti Mi avvicino con la telecamera per far vedere ecco qua Quindi mi aggancio con il filo dove ho la maglia bassa quindi ci sono quali due maglie due catenelle tra le due maglie alte qui c'è la maglia bassa vado con un certo dentro la maglia bassa prendo il filo E mi aggancio rientro dentro la da fa la mia maglia bassa una catenella vado dove ho le due catenelle vado a lavorare le mie cinque maglie alte doppi separati da 2 catenelle quindi una 2 catenelle seconda maglia alta doppia 2 catenelle terza maglia alta doppia 2 catenelle quarta maglia alta doppia 2 catenelle quinta maglia alta doppia una catenella di separazione vado dove ho la maglia bassa quindi qui e vado a fare una maglia bassa catenella di separazione salto queste in questa questa maglia alta doppia qui prendo i due canelli e vado qui e vado a fare di nuovo le mie cinque maglie alte doppie quindi una due catenelle seconda maglia alta doppia seconda maglia alta doppia 2 catenelle terza maglia alta doppia 2 catenelle quarta maglia alta doppia catenella di separazione devo andare a fare la mia maglia bassa e la vado a fare qui quindi salto dove ho questi maglie basse salto 3 catenelle va direttamente qui dove ho questo fuori lino e vado a fare una maglia bassa una catenella prendo due volte il filo salto queste tre maglie alte salto la maglia bassa e vado qui e vado in nuovo a fare le mie cinque maglie alte doppie separate da due catenelle 2 3 4 e 5 devo fare questo quindi per tutto il mio a giro attorno allo scalfo mi raccomando vedete un po voi se la volete fare più stretto o più largo dipende io penso che devo andare a stringere un po l'arco della dello scalfo delle maniche quindi vedete lascio molto spazio tra una tra la maglia bassa e l'archetto e le 5 mai alte doppie voi fate un po come volete vi dirò alla fine io comunque quante volte ripetuto questi gruppi di cinque maglie alte in modo tale da farvi capire più o meno quanto ho fatto io ma voi ripeto se volete la maglia un po più larga o se la volete più stretta se la volete più stretta allora come me mi raccomando lavorate di sempre molto distanti tra di loro se la volete più larga le varie lavorate invece più vicini Sono arrivata alla fine del mio primo giro per noi maniche e io ho contato i miei archetti di 5 mai alte doppie ne ha un totale di 37 quindi possa andare a chiudere facendo un dopo una la catena una maglia bassissima dove ora maglia bassa e poi comincia a lavorare normalmente come ho lavorato quando lavorato in tondo il corpo del vestito quindi con delle maglie bassissime mi porto tra le due catenelle delle prime due maglie alte e vado a lavorare 6 catenelle che sono la mia prima maglia alta e le 3 catenelle di separazione vado dove ho la terza maglia alta doppia e faccio una maglia bassa 3 catenelle vado dove ho le due catenelle tra la quarta e la quinta ma gli altri che faccio la maglia bassa e non mai alta scusatemi 2 catenelle e vado dove ho le prime le prime due catenelle tra le prime due maglie alte doppie e vado a fare una maglia alta 3 catenelle e ricomincio da capo quindi questi sono i giri che andremo sempre ripete io vi dirò alla fine quanto è lunga la mia manica e quindi quanti giri avrò fatto in modo tale che vi possiate rendere conto quanto dovete fare lunga anche voi la vostra manica Allora io ripetuto quei due giri per 22 volte l'ultimo ho fatto soltanto il primo giro il 23esimo ho fatto solo il primo giro questo perché voglio che la manica le resta larga perché ho fatto una manica un po a stile come si chiama pipistrello però non così grande e soltanto un po più larga quindi ripeto io ripetuto il giro 22 volte l'ultimo giro sono andato a fare soltanto il primo l'ultimo motivo essere realizzato solo dal primo giro non so se farò un bordino non penso deciderò dopo aver fatto anche l'altra manica comunque se così farò un bordino ve lo farò sapere altrimenti il vestito è terminato non so se farò un po'